Chiedi si conferma la casa della Pallamano italiana, i campionati under 19 femminili di handball si terranno proprio nel capoluogo teatino. Assessore, un grande riconoscimento per quella che è riconosciuta ormai come la casa dell'handball italiano. Assolutamente, come amministrazione insieme al nostro sindaco abbiamo fortemente voluto questa sinergia che ha dato vita, come ben ricordava, prima la nascita del centro tecnico federale della Pallamano presso la nostra struttura del Pala Santa Filomena e poi attraverso una costante interlocuzione che portiamo avanti con la federazione stessa e con il presidente Loria affinché questo impianto possa veramente diventare teatro di tanti appuntamenti di grande rilevanza dell'handball nazionale e internazionale e questo primo importante evento ne la conferma. I campionati europei under 19 di Pallamano femminile che si terranno dal 13 al 18 di luglio e con le riaperture, lo avevamo detto, si potrà concretizzare un profondo obiettivo che portiamo avanti, ossia far sì che il marketing sportivo sia qualcosa di molto importante per la nostra città perché attraverso lo sport si attrae gente a visitare le nostre chiedi perché attraverso i risultati che la nostra città in quest'anno peraltro ha conseguito si riesce veramente a creare indotto. Bene, con la Pallamano ci sono appuntamenti, come dicevo, di rilevanza nazionale ed internazionale e dunque tutti a Tifare Italia anche in questa occasione.